Siamo all'interno della sede di Confartigianato a Sanona di Piave. Questa sera un'importante riunione alla presenza anche del sindaco, il dottor Andrea Celesev, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Confartigianato pronta al dialogo con l'amministrazione comunale per valutare le proposte per una sede alternativa a quella attuale che si trova nell'area destinata alla cosiddetta cittadella degli studi. A fronte di un'esigenza dettata appunto da esigenze della collettività, Confartigianato non può fingere di essere in una posizione che è determinante per lo sviluppo del polo scolastico, quindi vogliamo appunto capire bene cosa ci viene proposto come possibile soluzione e poi valuteremo. Il sindaco, Andrea Cerasar, ha illustrato al presidente e associati presenti lo sviluppo futuro di Porta Nord, auspicando nella presenza di Confartigianato come importante partner. L'amministrazione ha un progetto importante per quanto riguarda il rilancio dell'area dove sorgeranno le due stazioni e dove insiste anche la fiera, dove all'interno della fiera ci possa essere sia una parte espositiva ma anche una piastra destinata a servizi. Questo progetto non può essere portato avanti solo dall'amministrazione ma ha bisogno di partner forti e sicuramente Confartigianato è uno di questi. È una realtà associativa che rappresenta le associazioni, le imprese artigiane la più importante insomma del nostro territorio e quindi su un progetto forte ci vuole un partner altrettanto forte. A suo tempo, qualche mese fa, Confartigianato aveva espresso la disponibilità, l'interesse insomma a capire come poteva esserci un posto anche per loro all'interno di quest'area e quindi il motivo della nostra presenza qui è per dare concretezza a questo progetto. L'attuale sede si trova vicino all'Istituto Alberti e al Liceo Scientifico Galilei ed oggi Confartigianato valuta un passaggio ad altra sede perché pensa che questo possa essere utile alla comunità. Noi abbiamo sostanzialmente delegato una commissione per fare le opportune valutazioni se e quando eventualmente cedere la nostra sede visto che siamo tirati un po' quando si parla di liceo e quant'altro c'è sempre in mezzo la Confartigianato. Quindi vogliamo fare le nostre scelte con scienza e coscienza e quindi vediamo cosa propone nell'ottica di sviluppo futuro l'amministrazione e di conseguenza giunta al Consiglio faranno le opportune valutazioni e le opportune decisioni. Confartigianato ha espresso un'unica preoccupazione in merito al progetto presentato cioè quella relativa alla tempistica. Tuttavia la decisione finale spetterà all'Assemblea. E poi l'amministrazione comunale come riutilizzerà l'edificio attualmente sede di Confartigianato? Questa sede essendo inserita all'interno della cittadella scolastica e quindi degli studi destinati alle scuole superiori sicuramente ben si presterebbe a ospitare una di queste scuole. Sappiamo che c'è una urgenza che in realtà è una emergenza che da anni conosciamo che riguarda il liceo montale sia la parte classico sia linguistico e qui potrebbero esserci i volumi per concretizzare anche questa soluzione.